Il cortocircuito, le fiamme, il soffitto dell'appartamento che crolla, strage sfiorata in via Corallai nel cuore del centro storico di Trapani. Una notte di terrore per otto famiglie rimaste senza casa. Oltre ai condomini dello stabile interessato al rogo, hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni anche i residenti e il palazzo Attiguo. L'incendio si è sviluppato attorno a Luna. I residenti che vivono nei due stabili che hanno lo stesso ingresso sono riusciti a scappare e dare l'allarme. Le fiamme sono divampate nella cameretta di un appartamento al terzo piano. Le cause sarebbero da imputare ad un cortocircuito dell'impianto elettrico. Il fuoco ha fatto crollare il tetto dell'immobile in preda al rogo, occupato da una coppia di coniugi, originali di Trapani ma residenti a Catania, tornati in città per le festività pasquali. Scattato l'allarme sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, i volontari della protezione civile e le forze dell'ordine. Nessun ferito ma tanta paura. I vigili del fuoco hanno lavorato per la messa in sicurezza dei due stabili che sono stati dichiarati inagibili. Siamo stati miracolati, il coro unanime delle persone evacuate. Questa mattina i residenti accompagnati dai vigili del fuoco sono ritornati nei loro alloggi per prendere vestiti e beni di prima necessità. La strada è stata transennata. Le famiglie evacuate hanno trovato ospitalità presso amici e parenti. Per due nuclei familiari invece sono intervenuti i servizi sociali del comune, come sottolineato dall'assessore Lele Barbara presente sul posto. Disaggi per la pizzeria Leci che rimarrà chiusa. Da rivedere anche l'itinerario delle precessioni della settimana santa. La via Corallai era infatti stata inserita nell'itinerario che verrà modificato nelle prossime ore.